Nancy Brilli ha conquistato tutti con la sua prova costume sui social e ha inviato un messaggio body positive ai fan Nancy Brilli si è mostrata in costume sui social e ha inviato ai suoi fan un messaggio body positive Nancy Brilli, la prova costume Nancy Brilli ha sfoggiato la sua forma smagliante sui social mostrandosi in un video in cui è ritratta in bikini Nancy Brilli a seguire ha inviato un messaggio d'incoraggiamento ai suoi fan esortandoli ad accettare se stessi pregi e difetti compresi Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto Sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia Sembrerò Una vita, così E guarda com'è senza trucco E sarà tutta rifatta E in fondo non è niente di che però invece è ancora carina E Ha scritto l'attrice E ancora Sai che ti dico? Ho deciso A me l'aria aperta piace Il sole fa bene alla schiena E tanti saluti Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i complimenti all'attrice per la sua forma smagliante e per il suo fisico da capogiro e, a quanto pare, da lei non importa granché delle critiche La malattia dell'attrice, classe 1964, Nancy Brilly è considerata una vera e propria icona del cinema italiano Di recente l'attrice ha svelato di aver fatto i conti in passato con l'endometriosi e ha svelato alcuni retroscena sulla malattia e sull'intervento da lei subito Grazie per la visione